Gentili telespettatori, ben ritrovati con il consueto appuntamento della Valla Garina. Questa volta parliamo dell'intervento 19. L'intervento 19 si può dire che è l'eredità del vecchio progettone. Consente di dare lavoro alle persone durante l'estate per sei mesi. Sono lavori socialmente utili, mettono posto i sentieri, le strade oppure gli archivi. La comunità della Valla Garina ha fatto fronte a questo importante strumento consentendo a circa 40 persone di poter lavorare. Sei mesi sembrano pochi, in realtà sono un salvagente per molti di loro. Abbiamo ritenuto importante dopo il secondo anno di questa importante iniziativa fare il punto della situazione e quindi con le persone occupate, sono 31 persone che hanno lavorato nella manutenzione del verde più 3 persone che hanno lavorato per quanto riguarda il riordino degli archivi, fare il punto di questa importantissima esperienza e soprattutto guardare il futuro riproponendo questa importante iniziativa anche per il 2015. Stiamo lavorando in questi giorni al bilancio di previsione 2015, pluriannale 2015-2017. Sappiamo che siamo a fine mandato, però l'iniziativa in campo del lavoro è un'iniziativa che abbiamo voluto mantenere in maniera convinta e quindi andremo a discutere in assemblea nelle prossime settimane di una manovra di bilancio che comprende fondi per riproporre per il terzo anno consecutivo questi interventi a favore dell'occupazione. Assessore Marcello Benedetti, Assessore della Comunità con competenza per il lavoro, un gran bello strumento a questo intervento 19? Sì, direi di sì, è una storia che viene da molto lontano, come comunità siamo molto soddisfatti di come è andato nel 2014, siamo riusciti a occupare 34 persone dei settori socialmente deboli in aggiunta all'intervento 19 che già fanno i nostri comuni. L'investimento nostro con nostre risorse è stato di 254 mila euro e l'augurio è che per un altro anno l'agenzia e la provincia autonoma di Trento possano collaborare ancora ad integrare i costi per occupare altre persone perché la situazione del lavoro in Vallagarina è particolarmente difficile. Cornelio Cavagna della cooperativa Jobs di Mori, voi avete gestito il lavoro di queste persone, come è stata? Che esperienza è stata? Allora, quest'anno noi avevamo tre squadre occupate in Vallagarina nell'intervento 19, una delle valli dell'Eno, una alla Eavio e una zona Mori-Brentonico-Valli di Gresta. Allora l'esperienza è stata molto positiva in quanto le persone occupate erano delle persone diciamo valide, qualche persona in difficoltà ma persone valide e quindi hanno operato nei vari comuni facendo dei bei lavori e facendo delle belle opere e quest'anno poi è stato un anno in cui abbiamo avuto il tempo che ci ha un po' flagellato su sti lavori e quindi hanno dovuto supplire a determinate manutenzioni perché l'erba ha continuato a crescere, le stradine invece che tagliarle due volte abbiamo dovuto tagliarle più volte comunque sono stati veramente validi e persone che ci hanno messo la propria buona volontà. Antonio Conte, lei ha fatto questa esperienza, ha lavorato per sei mesi negli archivi della comunità, come è stato? È un'esperienza secondo me importante, è un'esperienza che ci ha dato anche un... non sempre... cioè non mi aspettavo sinceramente di avere anche dei feedback positivi come abbiamo riscontrato perché noi eravamo un gruppo di lavoro, eravamo in tre e abbiamo lavorato bene e crediamo anche di aver portato anche le nostre piccole esperienze personali pregresse e ci siamo integrati bene perché l'ambiente era veramente anche propositivo e positivo un'iniziativa importante per noi perché ci ha dato un modo di lavorare perché lavorare non solo da modo anche di... è importante per una persona lavorare è sinonimo di dignità e quindi di accrescimento. L'intervento 19 quindi è un progetto che dovrebbe essere sempre sostenuto dalla provincia autonoma? Ma noi abbiamo questa fortuna perché credo altre realtà non so cosa sono in grado di offrire l'intervento 19 è sicuramente una cosa importante ed è una delle... perlomeno personalmente credo che è una cosa importante che la comunità sostenga questo tipo di progetti di occupazione che in questo momento c'è effettivamente bisogno, soprattutto in quel diroveretto. Grazie a tutti!